Convenzioni tramite i comuni che li ospitano e le prefetture, utilizzando l'associazionismo diffuso, senza rubare lavoro a nessuno, facendoli fare volontariato, arrivano, sono ospitate al plaza o in qualsiasi altro luogo, il mattino ci si alza alle 8, perché all'8 e mezza arriva il pulmino, che prende queste persone, li porta nel giardino pubblico che è da pulire, o lungo la spiaggia che è da sistemare, a mezzogiorno li riporta al plaza, mangiano perché hanno finito il loro lavoro, e il pomeriggio riposano. Questa amministrazione ha fallito nell'accoglienza, secondo l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, che ieri è intervenuto sul tema dell'immigrazione, rimproverando alla giunta di non essere riuscita a impiegare il gruppo ospitato al plaza, nemmeno i lavori socialmente utili. Alle affermazioni del consigliere ha risposto oggi Marina Barnesi, l'assessore ai servizi sociali ha puntualizzato che 31 profughi sono rimasti qui solo per tre mesi e le procedure per poter attivare questi lavori sono invece più lunghe e complesse. La richiesta più specifica di attività strutturate con lavori cosiddetti socialmente utili, ma a titolo volontaristico, richiede comunque una sua procedura e anche un protocollo. Ed è la prefettura stessa che ci ha convocato più di una volta, il protocollo lo possiamo stilare, ha delle procedure che vogliono una chiarezza rispetto ai luoghi, tempi, modi, e una copertura assicurativa, un corso di formazione in preparazione delle attività da svolgere, quindi voi come potete ben immaginare ancora non c'è un sistema diciamo rodato rispetto a questo. Il protocollo di intesa oggi è stato completato e visionato dalle associazioni di volontariato, passerà poi in consiglio comunale e infine dovrà essere sottoposto alla prefettura. Noi metteremo anche delle altre attività per il tempo libero, perché davvero riteniamo che le persone che arrivano molto spesso abbiano bisogno di più opportunità, non solo quella del dover lavorare, ma del poter lavorare. Noi metteremo anche delle altre attività, non solo quella del dover lavorare.